Ciao a tutti e bentornati qui a un nuovo video su Eurotrack Simulator 2. Questo video andrò avanti con le missioni dell'evento di svizzera portare i carichi. Vi ricordo di iscrivervi al canale così da aiutarmi a crescere e raggiungere prima possibile i miei iscritti. Ora se abbiamo un po' di fortuna che prima avevo fatto una cosa diversa non ce l'ho avuta adesso spero di sì di trovare il carico dalla Repubblica Ceca sulla Praga fino a Svizzera se abbiamo un po' di fortuna quindi proverei prima con Zurigo visto che è il viaggio più corto. Eccoli qua, per fortuna. Ok andiamo con le bevande, trasporto le bevande da Praga a Zurigo Per tempo mi sono accorto anche che è già uscito, cioè era uscito in mattinata già il aggiornamento al Praga a Svizzera, quindi adesso continuerò a fare un po' di video ancora qui in single player dopo non so se magari funzionerà... posso convertirlo a usare altro profilo ecco per capirci il profilo che ho che uso in multiplayer questo è quello che uso in single player e probabilmente i oggetti più corti li farò lì, adesso cerco anche di smaltire sto cercando comunque cercherò di smaltire anche i video che ho già fatto il prima possibile e finire lo stesso pubblicherò quelli più lunghi li pubblicherò lo stesso, cioè li farò comunque in single player. Se mi va bene farò quelli in singolo ma cioè quelli veloci ci vogliono pochi chilometri proverò a farli per conto mio, li farò per conto mio però neanche il video e magari li faccio anche in multiplayer così tanto per trovare... e faccio i lunghi li faccio anche per trovare qualcuno al rimetti, non c'è proprio nessuno in giro sicuramente per le strade molto lunghe non c'è, non si troverà neanche anima vivo e qui ho il camion che non si vuole attaccare allora lo passiamo del tutto, vediamo... adesso... bene cibo partiamo un carico di cos'è cibo o roba alimentare possiamo andare con il carico, il trasporto, allora luci sono accese lad qui, ho sbagliato, metterlo metterlo così, questo non mi interessa mi serve vedere lo specchietto e andiamo iniziamo a sciurdo bene con il semaforo rosso mi serve dovrei anche andare a sinistra tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra voltare a sinistra ma dovresti aumentare verde qui sto anche sempre dritta quindi da almeno qui roba da poco più di mezz'ora di viaggio anche totale va a a tutte le a a a a a Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Uscire adesso. Uscire a destra. Uscire a destra. Perso qua, incidente. Non si sono andati dentro quelli là. Paggiora traxmp. Quanto mi manca? Mancava, ora c'è un gran giornato, quindi... Perchè è impossibile non fare un diarretto anche di là. Perchè è impossibilità di farna. un po' fatica a salire una salita sinceramente comunque devo dire sono anche stanco già di fare questi viaggi che sono tanto lunghi perché tocca fare la città diversa come tempo ci vuole un'eternità andare qui non ci vuole un'eternità non ci vuole un'eternità non ci vuole un'eternità non ci vuole un'eternità ancora l'ossimburgo per fare basta poi poi basta adesso ci penso e le ho detto ciò gli ultimi più lunghi adesso praticamente qui in slovenia c'è slovenia qui in repubblica ceca e poi avrai l'ossimburgo gli altri sono tutti quanti vicini quelli che mi mancano meno di nazione qualcosa ho già fatto ancora come di pensare di iniziare a fare questi video qui quindi non ho ancora molto questo qui è un altro sarà e basta andare dritto andare dritto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, ok, c'è l'uscita, lo svincolo, ok, nessun problema. E se sei uscito di là, guardi qua. Ma ti aspetti e non viene mica fuori? Ma che figlio di buona donna. E se è messo davanti, si è fermato un disepiantato. Metto io adesso davanti. No, ok, 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 ok. No, ok, ok. No, ok, ok. No, ok. Tenersi a sinistra. No, ok. No, ok. 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 mi chiamare quanti chiamano di farmi in sosta a 300 km ancora quindi allora l'avevo sempre usato e quello di contro non avevo mai tolto il piede dell'acceleratore cioè il piede l'avevo tolto solo che non avevo cambiato marce e poi devo superare quel camion che mi dà la possibilità ok perfetto ok 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 Grazie a tutti. 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 La funzione è giusta, quindi non ho problemi. A destra, uscire a destra. Sopra l'entarma. Da 27 km ormai sono arrivato. Sopra l'interno. Qui c'è una servo? Prepararsi a voltare a sinistra. Destra? Qui dov'è? Ah, 4, 1, 5. La strada che ti obbliga ad andare a destra, credo. Non ho capito bene com'è fatta. Ah, ok. Senso unico anche quello. Non ho capito, ma... Ma cavolo... Ci sono le guie per entrare da quel dato lì. questo, in questa situazione. Non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero. Sopra l'altra, la pelle con apropria. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. È vero. Allora. Da, no, è vero. È vero. Ma è vero. Temo vero. Ha, Angelo. A destra Adesso? A sinistra A tenersi a sinistra Tutti i fan sono già passati però Tu lo dici Praticamente sono arrivato Tenersi a destra e uscire a destra Uscire a destra Uscire a destra devo usare un sacco in ampeggiare la semifra dritto dritto non sono un po' scattoli, no via dritta e poi voltare a destra l'idea precedenza per sicuro devo andare su il mondo dovrei girarmi da quel fondo posso andare a girarmi poi sto andando dritto e poi tornavo in grittura, vabbè non cambia di molto devo arrivare qua a consegnare e adesso la posta è arrivati, abbiamo consegnato adesso praticamente mancherà solamente a Lussemburgo rispetto al prossimo video che pubblicherò anche come possibile ormai l'ha vinto sa quale finito o meglio i multiplayer su due giorni finiranno sicuro grazie e al prossimo video ciao 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 ciao